segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te allora io so benissimo che essere qui questa sera in un momento complicato è importante quindi io sono contento che voi siete qui a discutere però non possiamo far finta lei dice giustamente questa storia l'ho citata prima io croce a fine ottocento perde tutta la sua famiglia quasi a casa micciola quindi che il territorio sia particolarmente fragile lo sappiamo si ho capito che il terremoto ma è sempre un territorio molto fragile se poi tu costruisci case abusive non in regola antisismica sarà ancora peggio e succede ancora adesso e lei lo sa molto bene lei lo sa molto bene perché io tra un po le farò vedere un servizio che abbiamo girato quattro anni fa dove ognuno a casa sua si tirava sul muro poi se viene terremoto sono danni morti direttore non le ho negato le ho detto l'abusivismo esiste non nego che non c'è l'abusivismo e lo stesso abusivismo che esiste in tante altre parti d'italia bisogna fare un qualcosa però il discorso idraulico è un discorso che si può risolvere con la manutenzione perché se all'inizio del novecento quando si è provveduto a fare queste cosiddette briglie tenere gli alvi puliti e perché non l'avete più fatto peggio di queste non è successo perché non l'avete più fatto possiamo fare noi come comuni non abbiamo la possibilità economica non è stata fatta perché i comuni non hanno la possibilità economica di farlo e allora bisogna fare le battaglie però con la guardia forestale le battaglie si devono fare sindaco anziché costruire le case abusive fate le battaglie fate le battaglie per pulire gli argini fate le battaglie finché non vi ascoltano perché muore la vostra gente colgo l'occasione col certo che muore la nostra gente noi non stiamo qui a scherzare colgo l'occasione attraverso questo programma per fare un appello al governo a che dunque veramente si mettono in sicurezza basta la manutenzione come primo passo non è che ci vuole chissà qualcosa se a questi alvei fosse stata fatta una manutenzione sicuramente non si verificava quello che si è verificato perché nel 2009 quando ha perso la vita quella bambina non è non è stata colpita nessuna casa è sceso lungo la strada proprio perché gli alvei sono 10 metri 12 metri sotto il livello del terreno sotto il livello del calpestio ma possibile che nemmeno all'inizio del secolo 110 anni fa si manteneva il territorio il generale risposta vedeva queste manutenzione siamo nel terzo millennio non ci riusciamo erasmo d'angelis è stato l'ex coordinatore di una cosa che funzionava voluta da renzi italia sicura